Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. La Nocerina batte altri due colpi. Nella giornata di ieri la Società Rossonera ha ufficializzato gli ingaggi dell'attaccante Giuseppe Caccavallo e della centrocampista Francesco Citarella. 36 anni, capacità di giocare in qualsiasi ruolo dell'attacco, Caccavallo vanta nella sua lunga carriera anche 29 presenze in Serie B con Lecce, Crotone e Salernitana. Complessivamente il centramante napoletano conta quasi 300 partite nei professionisti. Con l'ingaggio di Caccavallo si completa la prima linea molossa, un attacco di tutto rispetto che può contare anche su Piccioni, Parravicini e Del Bactui. Con Francesco Citarella si rafforza invece la mediana. Classe 2003, centrocampista Rosso Nero ha collezionato lo scorso anno 11 presenze in Serie C con le maglie di Gelbison e Taranto. Nocerino Purosanque, Francesco Citarella è il figlio di Giovanni Citarella, presidente dell'ultima Serie B dei Rossoneri. Dall'ufficiale all'ufficioso, le prossime ore saranno decisive per la riconferma del centrocampista di Palma e l'ingaggio del difensore Daniele Magliocca del Gladiator. Classe 2003. In stand-by la trattativa con Ciro e Raffaele Poziello, rispettivamente difensore centrocampista. Poi si dovrà completare il pacchetto under. L'obiettivo è di completare l'organico in occasione della partenza per il ritiro, fissata il giorno 31 luglio a Mercogliano. Intanto questa mattina è iniziata la campagna abbonamenti con prezzi invariati rispetto allo scorso anno. 90 euro per la curva, ridotto 50. 140 euro per i distinti, ridotto 80. 190 tribuna laterale, ridotto 100. 260 tribuna centrale, 500 sostenitore VIP.